L'anatomia, la fisiopatologia e la terapia del cuore, dalla nascita alla vita adulta, gli argomenti al centro del congresso medico-scientifico Un Cuore che Cresce, promosso nell'ambito della seconda edizione delle giornate di Cuore Chiaro. Tre giorni di confronto tra cardiologi provenienti da tutta la Sicilia, quelli promossi dall'associazione Cuore Chiaro Ollus, grazie al contributo scientifico del GIEC, il gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche, con un unico obiettivo, migliorare la risposta ai pazienti. Quest'anno, Cuore Chiaro Ollus, assieme al GIEC, il gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche, un'asila scientifica nazionale, abbiamo voluto puntare i riflettori su un cuore che cresce, dalla nascita fino alla vita adulta, fino alla patologia dell'adulto. Abbiamo voluto soprattutto sottolineare l'importanza della conoscenza delle problematiche in età pediatrica, addirittura anche durante la vita fetale nel neonato, sottolineando l'importanza di identificare la normalità. Un congresso che pone ancora una volta Caltanissetta al centro della cardiologia. Questo corso del dottore Scarnato è particolarmente interessante perché molte cardiopatie congenite possono non essere riconosciute in età pediatrica e vengono riconosciute invece, e devono essere riconosciute in età adulta. Molte morti improvvise sono dovute a condizioni a cardiopatie congenite o a cardiopatie che si presentano in età prematura, va bene, aterosclerosi precoce, o difetti valvolari, va bene, cardiaci, che possono degenerare verso l'arresto cardiaco. I sintomi che possono mettere in allarme sono in età neonatale, persino al primo anno di vita, una difficoltà alla suzione, un rallentamento della crescita, addirittura un arresto della crescita, sensazioni di vedere un affaticamento da parte del bambino, sudorazione profusa, irritabilità. Questi sono tutti sintomi, ma soprattutto l'arresto di crescita, che devono indurre nel sospetto che possa esserci qualcosa che non va al meglio per quanto riguarda il cuoricino.